Grazie. Grazie a tutti. Cosa fa l'ordine, cosa fa il sindacato in funzione di un aspetto molto importante che è quello del, come diceva prima Tedeschini, sul concetto delle competenze. Questo per me è l'aspetto fondamentale di tutta la discussione e di tutto il futuro. Il reale riconoscimento delle competenze. Qual è il quadro delle nuove competenze nel nuovo meccanismo che è quello digitale? Perché l'aspetto digitale, il cambiamento riguarda tutte le professioni, non soltanto quella dei giornalisti. Anche chi si occupa di agricoltura, se vuole essere sul mercato, deve cambiare il proprio modo di coltivare. La parte digitale è tanto importante quanto le competenze che c'erano prima. Allora secondo me è importante capire, e lo chiedo, cosa facciamo, cosa fa l'ordine, cosa fa il sindacato per quanto riguarda il riconoscimento delle competenze. Esiste un quadro di riferimento delle nuove competenze? Sì o no? Non lo so, lo chiedo. E poi, come diceva giustamente l'altro relatore, competenze che ci mettano un po', diciamo, visto anche la presenza dell'associazione internazionale, a pari livello con le competenze che ci sono dalle altre parti. Questo è un problema italiano molto importante sul riconoscimento delle competenze. Siamo l'ultimo paese della comunità europea per quanto riguarda l'ECVET e questa è una cosa importante, ci impedisce a noi di essere parificati e riconosciuti con le nostre competenze negli altri paesi. Quindi anche quello della nostra professione. Scusi, sono un secondo. Per quanto riguarda, c'è sfuggito... L'ECVET è un modello formativo europeo che consente che le competenze che una persona acquisisce nella formazione del proprio paese siano riconosciute in qualsiasi altro paese. Faccio un esempio che non riguarda il giornalismo. I muratori italiani adesso possono andare tranquillamente a lavorare in Germania perché c'è tantissima richiesta di mano d'opera. Lo sapete qual è il problema fondamentale? Che giustamente quando un muratore italiano si presenta dal capocantiere in Germania il capocantiere gli dice cosa sai fare? E il muratore gli dice beh io so fare questo, so fare questo, so fare quest'altro. Glielo riferisce. E questo pone un grosso problema perché al capocantiere non gli basta e non è sufficiente. Ora banalizzo l'argomento. Però questo è un argomento molto importante anche sugli aspetti che riguardano la retribuzione su parametri che sono legati alle capacità delle persone. Io so fare questo e vengo pargato in funzione di questo. Quindi importante secondo me che uno sforzo complessivo da parte del sistema, perché non sembra che siano i giornalisti, gli editori, cose completamente lontane, ma il prodotto è uno, l'organismo è unico, è una sola fisiologia che deve andare tutta insieme, d'accordo? Ma però bisogna cercare quelli che sono gli argomenti, le cose fondamentali sulle quali discutere. Altrimenti sono battaglie contrapposte. Io dico riconosciamo le competenze, lavoriamo affinché ci sia un riconoscimento effettivo e una certificazione di queste competenze. Allianiamoci con il resto d'Europa. Facciamo sì che il nostro problema della lingua, che rende il nostro mercato un mercato insignificante rispetto al mercato globale, perché noi non ci possiamo confrontare sul termine del prodotto rispetto a quello che è la potenzialità di un gruppo che si esprime in inglese, oppure che si esprime in cinese, oppure che si esprime in russo, o in francese, o in qualsiasi altra lingua di quelle importanti, tra virgolette nel senso numerico. Quindi se noi non cominciamo a confrontare le nostre competenze, noi si parla, si parla, si parla, ma non si parla secondo me di assolutamente di niente. Competenze e soft skill, l'altro aspetto importante, perché non bisogna essere bravi soltanto a dire ah io Photoshop lo uso in maniera eccezionale, so scrivere benissimo, so scrivere così bene che il SEO con me non è un problema, perché i miei articoli leggono in 7500 persone ogni secondo. Se poi sono uno che non lavora nel team perché non ha determinate competenze, il mio valore è zero per l'azienda. Che era un po' quello che provo a dire anch'io, con parole diverse. Io lo so, queste sono le mie parole, non so se sono giuste o meno. Una cosa se posso aggiungere. No, ho terminato, ho terminato, era solo una richiesta di informazione. Io aggiungo una cosa che mi sembra rilevante, nel senso che negli Stati Uniti c'è un dibattito su questa questione qui, perché praticamente cambia nelle offerte di lavoro le definizioni delle qualifiche, perché praticamente non vengono più richieste figure delle redazioni tradizionali, come può essere editor, reporter, o cine reporter, o fotorep, eccetera, eccetera, ma vengono richieste anche delle qualifiche diverse. Ora, come dire, bisognerebbe effettivamente in Italia fare una distinzione tra qualifica, che è una cosa tipicamente contrattuale, perché in qualche modo si lega all'organizzazione del lavoro tradizionale, e la cosa delle competenze, che significa una cosa diversa, nel senso che uno può essere, per dire, redattore ordinario, secondo il contratto di lavoro, ma, che ne so, esperto di search engine optimization, oppure sa lavorare appunto Photoshop, oppure cose di questo tipo. Chiaramente, come dire, è un po' anche il mercato che dà indicazioni su questo piano, e siccome, come diceva Franco Sidi, come dire, sul piano del mercato, appunto, la dimensione, la produzione delle piccole, diciamo, del digitale diffuso è ancora molto debole, evidentemente queste nuove competenze non hanno ancora assunto il peso che dovrebbero avere. Questa è una, solo per, come piccola aggiunta, soltanto per dire che questo del lavoro sulle competenze è un lavoro fondamentale che ha uno svolgimento continuo, non si arresta mai, perché pensare che noi si possano creare dei moduli sul riconoscimento delle competenze, su quale poi, in maniera meritocratica, si pagano anche le persone, può essere un qualcosa che si stabilisce, si ferma, lì è bloccare un qualcosa che fisiologicamente deve essere continuamente curato. Io non so se esiste, come dire, uno schema di determinazione delle qualifiche. Si chiama ECVET, normalmente riconosciuto dalla comunità europea. Il nostro mondo, almeno per quanto riguarda la mia esperienza istituzionale del giornalismo, è una cosa che non è stata mai posta, probabilmente per colpa nostra. Posso dire, per esperienza professionale mia diretta, lavorando anche in moltissimi progetti della comunità europea, le posso dire che statisticamente il nostro, su tutti i paesi della comunità, è, credo, il 26esimo, mi sembra, paese, l'Italia, in quanto ad applicazione del metodo ECVET per il riconoscimento delle competenze. Questo pone un grosso problema ai nostri lavoratori, al di là dell'aspetto linguistico, di andare in giro e farsi riconoscere per quello che effettivamente sanno fare, non per quello che possono riferire. I contratti si possono fare anche su questo. Non so se si possono fare i contratti, guardate, negli ultimi sei mesi posso certificarlo io, Sidi è invecchiato di dieci anni. Quindi caricata pure questa. A Cagliari il 3 maggio, ci siamo visti per ricordare i colleghi vittime delle varie criminalità di tutti i tipi, era un'altra persona, mi ha detto so che mi attaccherai quando approveremo il contratto, però farlo con comprensione ce l'ha sul piano personale. Però, non so, questo forse ti crea qualche problema con il cerchio magico che continua a insistere. Io ho grande rispetto per i muratori, perché mi piace la gente che fatica, i muratori nell'edilizia, i muratori nel nostro lavoro, e parlo, insomma, forse una delle pochissime qualità che ho, parlo chiaro. Siamo in ritardo di decenni, parlo dell'ordine, non parlo della Federazione della Stampa. Siamo in ritardo di decenni. Io credo che noi potremo approfittare di questo obbligo, perché senza l'obbligo non lo avremmo mai fatto. Parliamoci chiaro. In teoria, un obbligo di aggiornarci, ce l'avevamo già prima della Severino. Viva Dio che hanno ipotizzato delle conseguenze e forse questo porterà una parte della categoria ad aggiornarci. Noi dobbiamo approfittare di questa opportunità e stiamo facendo aggiustamenti continui sul regolamento della formazione-aggiornamento, perché è una cosa completamente nuova, ne faremo degli altri. Giuro che non ci avevo pensato, inutile, facciamo le esibizioni tra colleghi, serva a niente, per verificare se possiamo far valere dei corsi che si concludano con una certificazione. Però, vi scongiuro, abbiamo rispetto l'uno per l'altro. Non è che ci illudiamo che questo ci farà rispettare dagli editori, no? Perché gli editori vogliono, cioè, chi riempie, non è che vogliono chi si occupa di informazione alimentare con la competenza acquisita e migliorata. Però è uno stimolo che, vedrai, non faccio chiacchiere, è uno stimolo che troverà in qualche modo, mi devo confrontare, non sono il padrone dell'ordine, che troverà riscontro in qualche altro aggiustamento che faremo nel regolamento sulla formazione, nella speranza che non danneggi. Forse non aiuterà, ma comunque non farà danno e darà a qualcuno un minimo di soddisfazione in più. E sperando che poi non si debba andare in Germania per trovare lavoro nell'edilizia, perché io vi garantisco che sono mortificato quasi quotidianamente da colleghi che hanno abbandonato la professione eppure nel settore in crisi dell'edilizia per restare in tema crisi che c'è, mi dicono che finalmente cominciano a vedere qualche euro vendendo case a Milano, insomma, poi succede pure questo. Io parto prima da una risposta a qualcosa che ho visto su Twitter, così chiaria, e no, lo devo chiarire, no, perché purtroppo rimane, sono le cose minori che rispetto al dibattito importante stiamo facendo che comunque è bene chiarire per evitare, dico per l'anese a volte equivoci e non c'è nessuno più di me che è disponibile a chiarire e comunque a spiegare perché ho fatto certe cose prima di tutto. Anso, ci ritorno, non ho detto che non voglio fare un contratto con Anso, poi chi verrà dopo di me deciderà, deciderà il congresso, ho detto che non c'è oggi nella realtà di Anso una dimensione organizzativa e imprenditoriale tale da poter realizzare una rete di contratti di lavoro e mi riferivo al contratto tipico dipendente quindi le 500 euro non è che non voglio fare un contratto di lavoro dipendente 500 euro al mese non esiste e questo volevo dire sulle collaborazioni se Anso è già avanti per fare una rete di collaborazione anche certificata e qualificata ci mancherebbe lo facciamo con lo stiamo cercando di fare l'abbiamo fatto con USPI l'abbiamo fatto con Airanti l'abbiamo fatto o stiamo cercando di farlo con la FISH non c'è un problema ma il problema è capire che questa è una realtà nuova e bene che ci sia io sono lieto di lavorare di confrontarmi con Anso nelle sedi del ministero quando discutiamo delle nuove leggi per esempio perché lì siamo più avanti perché questa realtà è più avanti dal punto di vista dell'elaborazione della processità di quanto purtroppo in me il contesto economico non la porti avanti ma è chiaro anche ad Anso credo questo però chiariamolo una volta per tutte no quindi no perché non c'è una anzi c'è una ricchezza che arriva anche grazie ad Anso e chiunque organizzi similarmente diciamo il settore perché consente di emergere di tirare su e io auspico che sempre più questo diventi un sistema che davvero farrete anche dal punto di vista economico e del lavoro che insieme ad altri sistemi quelli tradizionali quello tradizionale integrato che cresce che sempre più cambierà pelle piaccia o non piaccia anche a me stesso ai miei colleghi che molti l'hanno rifiutato come rifiutavano i primi computer e voleva continuare a scrivere con la penna d'occa nell'ottanta e questo andrà dobbiamo starci il contratto però anche rispetto alle competenze non è una gabbia noi avremmo voluto fare un contratto ripeto innovativo profondamente dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro dal punto di vista delle qualifiche del riconoscimento delle nuove figure professionali che di fatto emergono non è stato possibile ma perché avrebbe significato entrare in una logica in cui gli editori interessavano solo sbaraccare interessavano solo sbaraccare detto questo allora però quel contratto non è una prigione non è una gabbia ci si può entrare uguale al limite anche rispetto a quanto osservava il collega lì in fondo certo non sulla certificazione quella non è materia nostra diretta per quanto lo è nell'interlocuzione invece con la comunità europea ci stiamo lavorando con la federazione europea dei giornalisti abbiamo delle figure il nostro contratto è così comunque aperto anche nella sua antichità che ci fa il nuovo ci può entrare tranquillamente se il lavoro è giornalistico avevamo previsto cinque anni fa le figure del redattore esperto e del redattore senior sapete che a nessuno quasi viene ricordato sapete perché? perché bisognava dare a qualcuno 80 euro in più e qualche altro 120 cioè se tutto si riduce qui è evidente che non c'è una sfida che non è te l'affrontano riconoscendotela nella sfida al tavolo negoziale e poi non te la riconoscono nel concreto e questo poi dopo sembra una baletta e non lo è è uno di quei passaggi attraverso i quali tu poi non realizzi quel cambiamento in più che vogliamo dico anche a lui perché ha detto delle cose belle ma alcune io non le condivido le strutture piramidali eccetera anche qui diciamo ormai almeno quasi ci fossero direi perché vuol dire che ci sarebbero ancora grandi organizzazioni sono quasi tutte strutturate salvo alcune realtà diciamo consolidate antiche ma tutte le altre capi non se ne fanno quasi più da nessuna parte si fanno fare il lavoro da capi spesso ai praticanti direttamente quindi non è più esasperazione lì non c'è l'esasperazione semmai è altrove in altre incostrazioni in altre resistenze che si creano ma le strutture gerarchiche adesso un po' noi ne abbiamo fatto un po' una moda nel racconto io non amo usare il termine racconto quando si parla di informazione ma nel racconto che ormai in cui si sta trasformando una parte dell'informazione per cui si innamora e piano piano poi lo costruisce sempre di più e sembra che no poi io ho chiesto ad alcuni colleghi fate un po' di indagini vere di inchieste sulla conseguenza del lavoro nelle realtà più disastrate nostre abbiate il coraggio di scrivere della crisi del messaggero della crisi del gazzettino eccetera eccetera di come si sta riorganizzando alcuni settori della stessa RAI per capire o di Mediaset con l'agenzia unificata e molte cose di fatto ci siamo le facciamo dentro poi abbiamo difficoltà di gerirle perché il cambiamento è difficile per tutti ma se il cambiamento su tutto questo significa solo che noi dobbiamo dare pezzi di pelle e pezzi di reddito non va bene e lì non è questo non vuol dire stare legati al vecchio e difensori del vecchio vuol dire sapere che abbiamo degli ancoraggi porca miseria ai quali vorremmo che ci arrivassero anche chi oggi è indietro e sta arrivando dallo scenario nuovo magari per sopravanzare al più presto è un mio sogno e altre due cosette che mi ero segnato io credo che sul piano invece generale della visione noi dobbiamo stare da questo punto dentro la realtà che sappiamo che ha un punto di riferimento economico che è ineludibile non c'è un qualcuno che pagherà comunque a prescindere avremo altre grane le stiamo avendo noi faremo una conferenza la prossima settimana per i giornali sostenuti dalle cooperative dei partiti eccetera perché ne hanno chiuso 32 negli ultimi tre anni rischiano di chiuderne gli altri 40 uno mi dirà ma tu difendi è vecchio sì ma io devo cercare di più che chiudere vorrei che ci fosse uno sforzo per creare dei passaggi di transizione di avanzamento perché se si chiude una cosa se ne apre un'altra accanto quello che manca all'Italia non è solo nei giornali ma anche in tutti i settori perché ci si fa credere che se licenziamo gente se ne occupa altra invece non è vero perché non c'è altro che si muove allora una cosa cioè se fossimo in un sistema in cui facciamo davvero un sistema noi gli editori lo Stato e i patti si mantengono e non giochiamo a colpi di furberie ne ho accennato a qualcuno molto banale ma poi tanto banale non è rispetto alle nuove leggi anche di finanziamento che lo Stato ha fatto e a proposito di quelle se penso a questo mondo chi è in grado dia una mano per far capire che alcune start up alcune nuove iniziative anche con quel contributo quasi lo chiamerei de minimis da 500 mila euro si può fare mettendo in moto quel fenomeno di autoimprenditorialità di cui parlavamo perché altrimenti cioè ci mettiamo delle cose e ci non si è fatto non si è provato a fare probabilmente non riusciamo né noi né lo Stato né chi deve applicare non lo so però ecco siamo in una fase che si sta tentando quanto o meno di innovare l'altra cosa la riprendo da Tedeschi Rillall giornalismi quando questa federazione della stampa nel 2001 fece sui giornalismi un congresso e da quel congresso ha aperto un ragionamento poi forse non è riuscito a tradurre diciamo così in atti materiali portanti visibili eccetera ma qualcosa è cambiato noi abbiamo detto con quel congresso chiunque fa giornalismo qualunque sia il luogo in cui lo fa qualunque sia la piattaforma nella quale lavora prima ancora di avere un riconoscimento contratto nel 2007 sta dentro abbiamo anche detto i collaboratori che vivono solo di questo all'interno della vita sindacale hanno lo stesso trattamento la stessa partecipazione devono essere inquadrati nello stesso elenco di chi ha un contratto di lavoro dipendente chiaro che sono simboli in qualche modo sociali e culturali non modificano probabilmente però ci siamo da questo punto ci siamo da questo punto di vista ma mi interessa di più un'altra cosa sui giornalismi la questione di Lalli cioè ricomporre l'unità professionale dell'identità professionale questo mi interessa di più e credo che sia questo lo sforzo cui dobbiamo tendere noi nel contratto l'ordine con la formazione l'ordine con come dire la promozione dei valori della deontologia e del giornalismo etico come carta non solo identitaria ma come carta di valore di ogni singolo giornalista di ogni collettivo relazionale che si formi e di articolazione di differenziazione di qualificazione stessa di questa di questa professione ecco quindi pensare ancora di più sull'unità dell'informazione professionale alla luce del cambiamento credo sia una sfida che dobbiamo continuare ad affrontare sapendo che non abbiamo definito che ogni giorno faremo una verifica metteremo un punto nuovo e saremo soggetti di cambiamento sì salve io volevo fare una domanda da outsider perché non sono un giornalista però mi capita di fare il giornalista in varie occasioni e il tema mi è venuto in mente sia perché parlavamo con Pierluca che parlava di razionalizzazione e anche di rinnovamento di processo all'interno in senso industriale all'interno dell'azienda e poi anche perché c'era la domanda su le competenze e il tema è quello della valutazione cioè nel giornalismo e nel mondo del giornalismo come funziona se c'è una valutazione anche interna diciamo sia dei comparti sia dei dei singoli giornalisti cioè come si fa a capire se per esempio un giornalista è migliore di un altro fa meglio il suo lavoro è più ha un valore maggiore il lavoro che fa all'interno naturalmente del contesto in cui lo fa e quindi per esempio su cui si può misurare anche la monetizzazione insomma quindi anche quanto dargli quanto assegnarli come salario o come bonus o altro perché naturalmente in altri ambiti da cui anche provengo esistono sistemi anche molto precisi e matematizzati per definire il valore diciamo dei singoli attori dell'avventura e quindi questa è la mia domanda una cosa che posso dire è questa diciamo in Italia tendiamo per cultura sempre a formalizzare le cose nel senso che tendiamo sempre a normare tendiamo sempre a definire e quindi perché questo ci sembra un modo per avere chiarezza mentre invece in società diverse dalla nostra non di cultura diciamo così umanistica ma molto più pratica come per esempio il mondo anglosassone quello che regola questi questi problemi qui è soprattutto il rapporto di mercato in qualche modo che in Italia non c'è e anche nel nostro settore poi in maniera particolare perché come dire anche i contratti integrativi delle aziende che dovrebbero essere gli elementi distintivi nelle differenze tra azienda grande azienda piccola azienda che fa soldi azienda che ne fa di meno sono molto vanno praticamente sparendo insomma e come dire il contratto di lavoro globale nazionale impedisce ancora di più la presenza di sfumature diverse di valore e di valorizzazione insomma e quindi come dire prevalgono le qualifiche di tipo contrattuale rispetto appunto alle competenze di tipo professionale per cui anche si vede nel digitale le redazioni più grosse si trascinano dietro più qualifiche perché sono già attaccate ogni qualifica attaccata alla persona al singolo individuo non che non si distingue tanto per la competenza ma quanto per la qualifica mentre invece e questo il processo si vede chiaramente dal rapporto nelle redazioni più piccole o quelle native le qualifiche sono molto poche perché praticamente nascono tutti uguali e quindi è difficile che qualcuno si porti dietro qualifiche che non c'aveva insomma allora il problema probabilmente è trovare una via di mezzo fra la qualifica sindacale e la competenza di mercato di valore generale questo penso che potrebbe e lo capisco il giovane perché ragiona un po' come i miei figli e i giovani hanno una cosa bisogna ascoltarli perché hanno davvero un approccio diverso che è un po' un po' un po' a contrattuale un po' europeo da questo punto di vista ma noi siamo siamo un po' formali per abitudini come dice Pino formali per storia perché il quadro il contesto che c'è qui è diverso da altri paesi in altri paesi è più facile che venga riconosciuto il curriculum qui è diverso e allora continuano a vivere nelle attività tradizionali i meccanismi consueti se sei dentro è il capo servizio o il direttore che decide se riconosce che sei bravo ma le dice l'azienda che non si può perché questo comporterebbe un riconoscimento economico oppure perché questo creerebbe un problema nella gestione io condivido quello che è un processo è un problema certo certo che ne produce però questo c'è io gli dico perché devo dire che non ci sono queste situazioni però anche qui anche le nostre forme le nostre regole non sono un ostacolo a premiare la competenza quando noi inventammo appunto sul piano anche il redattore esperto e il redattore segno era un modo e che secondo me ne dovrebbero fare valore i giornali di tutto questo anche per loro quando si presentano al pubblico questo è un mio redattore segno è una mia eccellenza ma loro non lo fanno cioè sono arrivati a concepire con noi l'idea ma non sono arrivati a concepire l'applicazione neanche quelli più avanzati neanche quelli più aperti inutile che ve lo devo dire quindi c'è da questo punto di vista tutto un discorso aperto non le conviene poi dopodiché oggi però ecco sfatiamo solo su un punto una cosa non è che il resto del mondo sia davvero molto migliore del nostro in alcuni casi è peggio in alcuni casi è peggio noi abbiamo noi per esempio nell'area diciamo prevalente del giornalismo italiano abbiamo un contratto di lavoro dei riferimenti in tutti gli altri paesi non c'è un contratto di lavoro sono contratti aziendali o di gruppo quando va bene o di regione o di provincia quando va bene ci sono giornali che chiudono con molta più facile da di noi e senza nessuna quasi protezione avete letto nei giorni scorsi l'ultima vicenda in Francia che era un giornale importante per tutta l'area del sud della Francia sta scomparendo e altri sono già scomparsi altro in Inghilterra un po' dappertutto in Germania che tutto tiene di più perché tiene di più l'economia hanno fatto anche più innovazione hanno affrontato con più precisione di noi anche formalismo di noi alcuni passaggi difficili cioè l'inserimento dell'e-commerce nei media l'hanno fatto con più tranquillità alcuni gruppi soprattutto Springer ma ecco attenti una cosa lì se le fanno le cose seriamente se le fanno cioè se loro fanno un'attività collaterale di quel genere lo dichiarano e lo realizzano davvero che quel beneficio economico che li ricavano serve per promuovere sostenere e finanziare il contenuto editoriale se lo fanno in Italia se lo mettono da un'altra parte per comprare immobili a New York o piuttosto che per comprare un giornale in Spagna che ti porta in fallimento come ha fatto l'RCS adesso non è immediata perché l'RCS la fa adesso la roba di Gazabet non l'ha fatta quando ha fatto il disastro in Spagna però non c'è questa chiarezza e Gazabet poi è una cosa anche un po' diversa su cui la discussione diventerebbe troppo lunga perché mi pare che c'è qualche problema morale etico dal punto di vista proprio dell'intreccio naturale di una cosa di questo genere con il contenuto della informazione sull'evento che invece lì diventa una scommessa che lì diventa una scommessa Gazabet è praticamente una società di scommesse sportive e io che devo facciare un giornale sullo sport sugli avvenimenti sui quali devo mantenere la mia identità la mia auto ecco posso creare se non faccio almeno degli elementi di barriera e di chiarezza su questo si può creare degli equivoci l'informazione non deve essere mai neanche percepita minimamente come un possibile strumento per una propaganda o per una cosa affine su cui altri lucrano e questo è il punto è molto delicata cioè non voglio non sto facendo una condanna in esplicito però sicuramente non è nata bene quella cosa senza confronto e il confronto da questo vista è importante senza una verifica con le parti che realizzano quel prodotto che principalmente ha come natura il contenuto editoriale di un giornale sportivo tra l'altro la bandiera del giornale sportivo italiano il numero uno stato